La Liga 2, il di Malaga Liganes. Per chi cerca alternative alle gare delle nazionali viene in soccorso la Liga 2. Il campionato di seconda divisione iberica. Gli andalusi sono in piena zona retrocessione con 27 punti conquistati nelle prime 32 giornate di campionato, cadetteria iberica. Il Liganes ha 13 punti in più ma non vince da 6 giornate, 4 KO e 2 pareggi, e come se non bastasse da 5 turni a questa parte è anche rimasto a secco di gol. Malaga Liganes, fai il tuo pronostico Malaga, ecco un dato a dir poco sorprendente. Detto che il Liganes ha vinto solo due delle 15 trasferte disputate. Il dato che più colpisce lo offrono gli andalusi. Mai hanno segnato due reti esatte, somma gol casa 2, nelle 16 partite casalinghe fin qui giocate. Molti probabilmente metterebbero la firma anche sul semplice over 1, 5 casa, in lavagna 3, 42.